Allora mister, finalmente è fatta! È fatta, manca ancora una vita! No, se lo meritavano a prescindere, questi ragazzi qua se lo meritavano per il campionato che hanno fatto hanno fatto un campionato che credimi io ho tanti anni che sono qui a San Donà, che vivo la piazza se lo meritano, se lo meritano! Avete giocato fino alla fine, anche troppo perché forse dovevate rallentare ma non siete squadra che rallenta? No, purtroppo no, la nostra gioventù ci porta a giocare, a provare a vincere la partita sempre questo è quello che proviamo a fare comunque bravi tutti, soprattutto il mio staff, abbiamo uno staff di giovani che si meritano tutto questo bravi, bravi! Sta un finale infuocato anche tra le panchine, ma tutto a posto poi? Ma sì, no, dopo tutto a posto, avevano scosto i palloni loro Piste di bocca al lupo!